Ho deciso di diventare tutor per poter aiutare nel miglior dei modi le persone che mi presentavano davanti, soprattutto gli studenti, per poterli comprendere, indirizzarli, guidarli al meglio delle mie capacità. Il mio tutor nei tre anni è stato il professor Sergio Morini, quindi non ho avuto, penso, uno dei migliori tutor. Sono stato fortunato, lui mi ha insegnato tanto, mi ha guidato e quindi cerco di dare ai miei studenti quello che ho appreso da lui. Quindi con la semplicità, con l'umanità e con la voglia di stare appunto accanto allo studente e supportarlo al meglio. Mi occupo di assistenza domiciliare, sono un infermiere e appunto come abbiamo già detto l'ambiente, l'ambito della comunicazione per noi è fondamentale, soprattutto perché entrando dentro casa delle persone devi avere un impatto e devi avere una corrispondenza massima e subito efficace con chi ti trovi davanti. Quindi appunto questo corso mi ha dato la possibilità di migliorare questa skill e di poterla mettere in pratica giorno dopo giorno all'interno del mio lavoro. Grazie per la visione!